Sì, la formula è esattamente come giù l'anno. Arrivo, eh. La gamba di fronte all'altro. Luca, spieghi bene con quella gamba. Ok. Grazie. 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 alzato il pallone e tappeto vieni i debiti del caso grazie ragazzi vuoi stoppare? c'hai la morosa diglielo lo sai come noi che frequentiamo io invece è totalmente bene è lei che viene non mi permetterai no ma lui io quelle degli amici quelle degli amici non si tocca ah beh hai già l'indicato hai già conosciuto la morosa di Roca ho fatto scappare il plea di anno grazie a te grazie a te grazie a te grazie 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 arrivo tardi e vado via prima se arrivi in orario se arrivi in orario vado via più vicino e che può essere che arrivo tardi e me ne vado prima vai che sono giù questi modelli domani hai torrazzo no no, giochiamo contro quelli che c'erano a tono di strada gioco con lui, con i miei compagni poi mi sono iscritto a tre tornei che sono dei tre tre listi e lui lì non se non è a vento perché sono voluti devo fare tutto in un giuto in una notte ma il campionato italiano scusami sono dei tornei normali che però si iniziano ma siete fatti a tutti i tuoi soni ah ok che cazzo viene a fare che vieni a fare che cosa viene a fare ma poi in centro cosa devo fare tanto imparano ad alzare così scopri esatto mi dico solo che ci sono due italiani che hanno fatto gli olimpi e tu non è che sono il prossimo il doppio, il mille vedi ma il cazzo arriva a un mille vedi io è che siamo con questo, tu volendo arrivare ma non ci arrivano mai no, ormai che stiamo iniziando ad alzare infatti abbiamo deciso di arrivare nel mezzo di quattro anni e ci rimaneva a far girare, devi accompagnare Luca e Lorenzo ma invece a dire no, no, non lo so ma poi c'è un atto 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 ma poi c'è una sede, la gira a palla ma chi mi ha passato a trovare la lega? eh? grazie 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 questo è molto più bello, è dolcezza la vedete, dolcezza non la colpire con il pene come penso più dolcezza e meno pelle non mi riesco a giocare perché non mi droga non mi riesco a giocare scomparso per due ore un'ora e mezza prima un'ora e mezza prima se ne è accorto nessuno, è stato già in mezzo al canto ogni tanto tornavo da lui, dicevo due parole da bianco e poi dopo tornavo a scappare perché non sapevo dove dove stare colpire corimpressioni giusepire controlla un'ora 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 confluzo colp Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.